Condizioni critiche, per non dire proibitive, questa mattina ad Aresh Beaufort. Pioggia battente mista a grandine, vento in quota, visibilità ai minimi termini. Anche i tracciatori della piarramenta hanno dovuto alzare bandiera bianca. Sicurezza prima di tutto. Giusto così è stata annullata la terza tappa del Tour de France dello scialpinismo. È la prima volta in 37 anni di storia che viene presa questa decisione. Una decisione, come abbiamo già detto, giusta. Gli atleti questa mattina erano già tutti schierati in griglia di partenza, sferzati dalle intemperie. Poi al countdown è arrivata la conferma ufficiale di questo annullamento. La classifica resta quella di ieri. Ora a fare la differenza saranno le previsioni meteo che danno per domani un abbassamento delle temperature e quindi l'arrivo della tanto agognata neve.